Il Copy PDF Pro Office è il software leader di mercato di Nuance per la creazione, la conversione e la modifica di PDF concepito per tutte le tipologie di utenti. Quasi tutti i professionisti lavorano con documenti PDF e sulla maggior parte del loro computer ha installato almeno un visualizzatore PDF. Ma nonostante ben il 60% di loro segnali una forte esigenza di disporre di strumenti completi per l'elaborazione dei PDF completi, solo il 10% può accedervi. Il Copy PDF Pro Office risolve queste esigenze consentendo a tutti di creare, visualizzare e modificare facilmente i documenti PDF mediante un software dal prezzo contenuto. Sia che voi abbiate l'esigenza di convertire una pagina web, digitalizzare un documento cartaceo, usare un elaboratore di testi, un foglio di calcolo o qualsiasi altra applicazione, i Copy PDF Pro Office vi consentirà di generare PDF in modo preciso e rapido. Sempre attenti all'innovazione, abbiamo aggiunto alle nuove versioni il connettore cloud, che permette tra le altre cose di interfacciarsi direttamente con software di gestione documentale, DMS, come ad esempio SharePoint. Con il supporto integrato dei più diffusi servizi di condivisione dei file, tra cui Dropbox e Evernote, potete accedere rapidamente ai vostri documenti e file ovunque voi siate. I file salvati sono conformi ai più alti standard di settore, con un ineguagliato supporto di PDF-A e molti altri strumenti atti a garantire l'integrità del PDF. Da sempre, i Copy PDF Pro Office offre opzioni complete di protezione dei documenti, inclusi l'oscuramento, la firma elettronica e la protezione mediante password. Nella versione più recente, è possibile proteggere i documenti e condividerli liberamente a livello di struttura, senza dover ricordare password, grazie alla gestione dei diritti digitali file open. Per quanto riguarda la modifica dei documenti PDF, i Copy PDF Pro Office offre funzioni avanzate uniche che non troverete in alcun altro software PDF. Con un semplice clic è possibile modificare il documento utilizzando le più complete funzioni di elaborazione testi, usufruendo così di un controllo assoluto sulla prestazione e sul layout. Apportare modifiche importanti a un documento PDF non è mai stato così semplice o rapido. I Copy PDF Pro Office dispone di numerose funzioni che riducono tempi e costi. Convertite documenti statici in moduli PDF compilabili che possono essere quindi modificati, completati, salvati e inviati per posta elettronica. Convertite i documenti in modo batch. Aggiungete timbri a numerazione Bates e personalizzati. Usate potenti funzioni di integrazione per comporre file e rimuovere o sostituire le pagine semplicemente trascinandole. Potete persino dettare le note direttamente nei PDF, grazie al nuovo potente motore di riconoscimento vocale Dragon Notes. Confirm marketing check before publishing. I Copy PDF Pro Office costituisce un'efficace integrazione PDF per i dispositivi multifunzione. Consente di creare, modificare e convertire i PDF in modo semplice ma potente, massimizzando i risparmi e senza scendere a compromessi sulla qualità. Audit. Diиться a cura di potenti werah la fotografica.